bella a tutti ragazzi l'oxyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di clash royale è uno schermo più grande spero che vi piaccia ho cambiato un pochettino la risoluzione secondo me si vede molto meglio chi ha visto il video di ieri si ricorderà che siamo ad un punto molto interessante della sfida sadden death 5 vittorie una sconfitta con un deck che sta girando davvero alla grande il re degli scheletri cimitero orda di scheletri pipistrelli bocciatore strega capanna goblin e frecce andiamo avanti vediamo di fare altre 5 trump smoke qualcosa re degli scheletri subito in apertura dovre con un principe nero capanna goblin e bocciatore immediatamente utilizziamo subito l'abilità del re degli scheletri prendiamo anche qualche secondo strega un pochettino più indietro e poi subito anche i pipistrelli le frecce per togliere il suo arciere pirotecnico che è scomodissimo pronti anche con il cimitero a riaprire andiamo adesso cimitero vai vai va questo cimitero fa malissimo ragazzi bocciatore sto facendo male il cimitero ha fatto veramente male il cimitero c'è il bocciatore ancora vivo guarda che roba guarda che roba giù di nuovo la capanna goblin servirebbe immediatamente la possibilità di trarre le frecce togliamo l'arciere più tecnico dai piedi eccolo qui infatti era degli scheletri di nuovo davanti riusciamo ad evitare che venga colpito dalla fireball sfruttiamo anche la sua abilità re degli scheletri che può sponare gli scheletrini extra e allora di nuovo con il cimitero si riparte si riparte vai 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 speriamo che facciano qualche danno extra capanna goblin per non dare modo e andiamo a chiudere let's go il primo game molto bene molto molto bene aia aia due gettoni leggendari ma io butto lì le carte leggendarie che vorrei vediamo un pochettino personalmente personalmente mi piacerebbe avere la strega madre ad un livello più alto a livello maxato vediamo se metto giù una strega madre vediamo se qualcuno me la dà allora e possiamo dare un miner possiamo dare una fuorileggio mi dispiacerebbe da un pescatore un boscaiolo io voglio una strega nera non è un problema speriamo che me la diano avanti ancora dicevano anche allora contro ac 1220 del clan yongo dom ben di nuovo apertura re degli scheletri lui apre con un golem di elisir attenzione bocciatore è questo da che lo conosco molto bene era ovvio che fosse così infatti pronta la strega si è già giocato tutto andiamo con il non pensavo giocasse la variante cavaliere d'oro è sinceramente attenzione cavaliere doro cattivissimo in questo frangente vediamo se il bocciatore riesce ad aiutarci mettere un altro dietro di bocciatore attenzione wow che deck devasto ragazzi attenzione qui sono obbligato a giocare anche scheletrini e cose così un altro re degli scheletri sotto mi serve avere una mano wow attenzione perché questo fa veramente male capannone goblazzo è meglio ripartire velocemente in qualche modo sempliciti a tancare il primo attacco speriamo che sia quello decisivo quello della ripartenza strega dietro questo è un bel deck giocato in per tre ragazzi questo è un grandissimo deck giocato in per tre fa davvero male non so se abbiamo modo addirittura di riuscire a counterare nuovamente re degli scheletri di nuovo mi sa che questo ci frega ragazzi mi sa che questo ci frega alla grande mi sa proprio di sì mi sa proprio di sì bocciatore di nuovo davanti non possiamo più fermarlo bravo grande grande che ci sta ci sta ci sta ci sta questo fermarlo è impossibile io ce l'ho questo deck lo utilizzavo con la classica variante senza il cavaliere d'oro ma con i barbari scelti e non ci ho pensato sinceramente di utilizzarlo in questa sfida sadden death ma gira veramente troppo bene strega madre per l'apertura di diaco del clan andiamo di ripartire strega anche per noi poi re degli scheletri sfruttiamo subito l'abilità del re degli scheletri sape che il bocciatore dia una mano rapidamente molto bene molto bene andiamo a frecciare un pochettino qua in modo da togliere qualsiasi problema e se potessi aprire con il cimitero cosa che farò in questo momento non sarebbe affatto male cimitero infatti che parte proprio adesso diamo una mano con gli scheletri pipistrelli la strega madre dietro togliamo questo cavaliere d'oro che è scomodissimo un altro bocciatore lo giochiamo leggermente più indietro ci servirà per fermare i suoi maialini e anche la riete da battaglia domatrice di arieti strega dall'altra parte ottimo 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 stiamo fermando tutto quanto freccioline per noi il problema è che la strega madre con i miei scheletrini come vedete ha una potenza abbastanza vergognosa quindi è meglio trovare una soluzione rapida per poter fermare anche il pecca ce la facciamo in questo momento ogni volta che una truppa mia viene convertita dalla strega madre diventa un maialino e questo ci costa veramente un sacco di problemi nel difendere frecce no e niente frecce niente frecce pronto cimitero pronto cimitero pronto cimitero vai 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo si sente quanto è utile il bocciatore perché riesce a togliere attenzione mille due millenovato 800 700 oh my god quel bocciatore serve troppo serve troppo 361 73 let's go mamma mia ragazzi il bocciatore che male che fa ragazzi mamma mia il bocciatore che male avanti 15 gemme molto bene molto bene e non ci fermiamo abbiamo passato le 2000 gemme collezionate willy dei fam v2 strega di nuovo sulla sinistra da dietro stesso deck di prima porca miseria no non è vero attenzione meglio per me o porca miseria o porca miseria nice nice questa gelo è devasto bravo ci ha fregato così o al play my friend o al play my friend è bastata una mongolfiera per metterci alle corde nice avanti tre sconfitte sette vittorie halo yongel del clan 9a io 9a ho 9a io ho ho non sappiamo bene che clan sia ma va bene così avanti vediamo subito l'abilità intanto andiamo a dar fastidio alla strega madre a questo bocciatore sarà la chiave di volta per poter entrare con il nostro deck sotto anche con i goblin lanceri è un deck molto simile a quello che abbiamo visto prima vediamo quanto ci può aiutare ok non viene preso il bocciatore per fortuna strega da dietro che pesantezza che pesantezza andiamo e parte che lui non gioca una strega madre cosa che non doveva fare invece la fa non mi permette di aprire con il cimitero che palle ok fermarsi 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 bocciatore re degli scheletri dobbiamo difendere il più possibile utilizziamo subito l'abilità del re degli scheletri il bocciatore ci serve troppo per riuscire a stoppare un attivino di sul ponte l'incursione ok via la strega madre perfetto capanna goblin per noi togliamolo togliamolo questo barbaro ok devo cercare di aprire con ma fermiamo di nuovo la domatrice non mi dà la possibilità di aprire con il bocciatore questo è scomodo frecce per dare fastidio un po alla strega madre via anche il principe nero ok ci sono i nostri scheletrini che ci aiutano fermiamo un attimino la fuorilegge non è proprio una cosa così immediata andiamo ad utilizzare nuovamente l'abilità e poi proviamo ad aprire con il cimitero devo cercare di fare dei chip damage sarà quasi impossibile riuscire a fargli una torre considerando la difesa che ha lui bocciatore di nuovo ma dobbiamo danneggiare in modo da rimanere più alti rispetto a lui con la salute della torre strega sulla sinistra andiamo con le frecce centrali molto è il bocciatore qua fa la differenza re degli scheletri di nuovo davanti attenzione viene colpito utilizziamo subito l'abilità prima che vada giù il re degli scheletri ok perfetto 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 e adesso rientriamo con tutto pronto anche il cimitero speriamo che sia la scelta giusta non posso fare altro per il momento devo comunque tornare indietro con il bocciatore per poter difendere e non far passare niente nessuno come la vedo male come la vedo male vediamo quanto ci aiuta il bocciatore buttiamo dietro un po di scheletrini e anche ok ok in realtà è ancora vivo il bocciatore perfetto non abbiamo subito tutti questi danni come pensavo ne mettiamo due di bocciatori ci possono aiutare davvero un sacco re degli scheletri di nuovo davanti per evitare il problema andiamo utilizzare l'abilità e qua c'è una matrice di arieti che è scomoda facciamola impattare in realtà contro la torre non tanto contro la mia torre di sinistra non entriamo comunque ragazzi non entriamo mamma mia che difficile bocciatore ancora fermiamo 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 cerchiamo in tutti i modi di fermare impatto ugualmente non ce la faccio ok è la strega che mi frega ragazzi la strega che mi frega di nuovo re degli scheletri sotto utilizziamo l'abilità tiriamo le frecce sul ponte per cercare di fermare il suo ingresso cimitero molto alto andiamo 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 lo so che non si giocano truppe quando c'è una strega madre ma non so cosa fare devo in qualche modo danneggiare la sua torre per portarla sempre il più possibile a cavolo strega dall'altra parte non possiamo escludere anche il problema che si sta consumando sulla torre di destra bello questo cimitero il bocciatore deve sopravvivere assolutamente me ne serve un altro dietro immediatamente 1267 1063 la mia torre di destra 60 secondi 1156 andiamo a giocare anche una capanna goblin per deviare la sua domatrice di arieti lui continua ad insistere con gli spell serve nuovamente il cimitero per poter aprire il tappo farebbe davvero comodo a danneggiamo danneggiamo ancora dentro 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 9 64 8 e 29 non siamo dentro non siamo dentro 30 secondi se tira un'altra fireball e noi non riusciamo a fare un buon attacco la situazione la vedo veramente grigia di nuovo il cimitero questa è la partita questa volta con le fa vincere l'abbiamo fermato siamo dentro anche noi la chiude col dai però ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia che devasto non è affatto facile non è affatto facile facciamo l'ultimo game di oggi nova one rikes degli schweez o porca miseria aperto con gli spaccamuro ottimo sotto col cimitero sotto col cimitero sotto col cimitero vai 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 vola vola no devo giocare le frecce belle queste ecco queste frecce mi serviranno tantissimo vai 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 guarda che ci sono salvati due scheletrini che stanno danneggiando la torre 1726 let's go ti prego non su no 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 do andare su di spaccamuro mamma mia che brutta questa cosa ok ricordarsi di fermare gli spaccamuro in un altro modo assolutamente non mi sembra un deck che mi potrà dare troppi troppi problemi sono pronto a ripartire cimitero adesso vai pronte le frecce sui suoi pipistrelli eccoli potevo giocare leggermente meglio ma va bene 1300 1200 ha giocato anche un minor cortissimo devo tenere un minimo di elisir per counterare i suoi eccoli spaccamuro vediamo se lo facciamo con lorda perfetto ok 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 non facciamo nulla non facciamo nulla piuttosto giù un'altra a porca miseria giù un'altra capanna goblin mi frega bene con questo con questo minor 1088 1291 la sua torre il nuovo un bocciatore ok finché attacca di là non è un problema non mi può fregare così cimitero io vado in predict io vado in predict dimmi chi li gioca lì non li gioca attenzione arca miseria di giocati un attimo dopo 694 non fare nulla fermagli ancora con l'orda di scheletri fermalo ti prego 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 ok no non so se ce la faccio entrare non so se la faccio entrare siamo sotto 4 21 preparata let's go questa non era affatto facile questa non era affatto facile wow beh ragazzi per adesso stiamo andando veramente bene ci sono ancora due giorni per la sfida siamo wow a otto vittorie quattro sconfitte non facile domani sicuramente andrò avanti per tutti quelli che hanno voglia di vedere i video di miei video di clash royale vi auguro una buona continuazione vi mando un bacione noi ci vediamo al prossimo video di clash ciao